Tra i nostri scopi c'è anche quello di fare ricerca sul mondo dell'energia, di sostenere la cultura e di sostenere anche il terzo settore, il volontariato, laddove queste iniziative si intersecano con lo sviluppo della città e della società. Una mia particolare attenzione è stata dedicata proprio al ruolo delle fondazioni di impresa rispetto al welfare e alla cultura e noi abbiamo pensato di riunire le fondazioni di impresa attorno ad un tavolo, abbiamo preparato un convegno che a Milano ha visto riunite le più importanti fondazioni di impresa e ci siamo dati un appuntamento che è quello di trovare un grande progetto, noi la sosterremo questa iniziativa sicuramente e cercheremo anche di essere parte di un processo per invogliare altri a sostenerlo perché questa è una delle nostre caratteristiche, quindi cercare di creare un sistema di sostegno verso il progetto Voce coinvolgendo anche altre imprese e altre fondazioni di impresa.